Voga 2016, il tuo portafortuna. Beh, dato che sono grizzly e che l'orso è il mio totem, si suppone che l'orso sia anche il mio portafortuna, e d'altronde ho una quantità sterminata di orsi e orsetti di peluche. Anzi, permettetemi anche di farvi vedere questo piccolo orsetto fatto con gli scovolini per pulire le pipe. Nonostante comunque l'ampia quantità di orsetti di peluche, che considero in qualche modo un portafortuna, comunque in realtà non credo molto nell'idea del portafortuna. Cioè ok, sì, mi fa sorridere, ma non do la piena fiducia al 100% a un oggetto che deve portarmi fortuna, se non ho quell'oggetto non ho fortuna con me. Credo poco in questo genere di cose, non mi considero molto superstizioso, e mi piace più che altro scherzarci e giocarci sopra. Quindi in effetti non ho un vero e proprio portafortuna, però se devo rispondere qual è il mio portafortuna, in ogni caso, occhi chiusi, subito dico qualunque orso, principalmente di peluche. tendo a non avere orsi veri che mi girano in casa, non credo che sia del tutto gradevole questo. Tu, invece, qual è il tuo portafortuna? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Bene, sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani. Ciao!